Buonasera, buonasera al Ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani. Bentornato, sono giornate drammatiche, anche oggi è stata una giornata terribile, ma c'è il tema energetico che rischia di riportare degli effetti devastanti anche nel nostro quotidiano. Intanto la prima cosa che le voglio chiedere, Ministro, è quanto gas ci fornisce la Russia oggi? La Russia ci fornisce il 40% circa del gas che ogni anno consumiamo. Noi ogni anno consumiamo 70-75 miliardi di metri cubi di gas, circa il 40% ce lo dà la Russia. Quindi bisogna cominciare a pensare come rendersi indipendente da una fornitura di questo tipo. In questo momento possiamo dire no alla Russia da oggi, no al suo gas? Al momento il gas sta fluendo esattamente come, anzi di più rispetto a qualche settimana fa. Quindi non esiste in questo istante un problema di mancanza di gas. È evidente che con questi avvenimenti atroci essere dipendenti così fortemente da un paese che ha queste attitudini è pericoloso. Dobbiamo fare un piano per liberarci di questo gas e per diventare quantomeno più autonomi, almeno parzialmente. Allora, prima di avere il piano e capire come ci sganceremo da Putin, cerchiamo di capire oggi cosa possiamo fare per non finanziare le bombe e la guerra di Putin. Perché con i soldi che noi europei diamo alla Russia, la Russia ci paga la guerra all'Ucraina. Tutta l'Europa importa dalla Russia oltre il 40% del gas. L'Europa da sola come continente è il più grande cliente del gas collegato a gasdotti che ci sia sul pianeta. Quindi l'Europa può cominciare anche a ragionare in termini. Io sono il più grande compratore del pianeta, metto qualche regola. Allora, cosa succede? In questo momento il gas risente delle cosiddette tensioni del mercato. Viene fatto un prezzo del gas che non ha nulla a che vedere col prezzo di estrazione. Si vende a 10 volte tanto. Cioè, c'erano gli speculatori. Molto forti anche. Allora, cosa succede? Che se io compro questo gas che mi costa X estrarlo, poi lo vendo a 10 volte X, è chiaro che è un ottimo affare. Siccome noi stiamo tuttora comprando gas dalla Russia, come Europa più o meno immettiamo nelle casse della Russia quasi un miliardo di euro ogni giorno. E in questo momento capite bene che questo miliardo di euro può essere usato per finanziare largamente. Quindi l'Europa potrebbe, unita a dire alla Russia, siccome siamo il più grande cliente, tu ci fai un grosso sconto e noi più di tanto non paghiamo. Diciamo che si può... Come un gruppo di acquisto. Ecco, diciamo, si può fare una cosa che si chiama price cap, no? Si mette un tetto al prezzo a cui tutti quelli che vendono gas, non solo la Russia, devono sottostare anche perché appunto stanno parlando con il più grosso cliente. È chiaro che ci può essere una critica che dice ma non te lo vendono perché metti un prezzo troppo basso. Però è anche vero che siccome i tre quarti del gas lo compriamo noi, chi lo vende non può rinunciare al miglior cliente. È anche un punto, il problema è anche dare un prezzo sufficientemente attrattivo. Cioè noi non stiamo strozzando un mercato, dovremmo pensare ad un prezzo che sia diciamo più equo e nello stesso tempo attrattivo. Anche perché per i cittadini il prezzo dell'energia elettrica è legato al prezzo del gas. Certo, quindi le bollette salgono. Ma la cosa importante sono le speculazioni. Ma le speculazioni sono all'interno dei singoli paesi o ci sono paesi europei che speculano rispetto ad altri? Ma in questo momento abbiamo il prezzo del gas che viene fatto dal TTF che è in Olanda, che è un po' dal riferimento. Tutti si adeguano a questo. Poi dipende molto dal fatto che alcuni contratti sono sul lungo termine. Per cui oggi faccio un contratto per tanti anni e stabilisco un prezzo che casomai fra molti anni sarà vantaggioso. Altri sono a spot, sono comprati oggi al prezzo attuale. Quindi non è proprio una regola uniforme. Ma è chiaro che se io pensassi ad un'Europa unita che si presenta con un prezzo unico sufficientemente attrattivo ma eco, nello stesso tempo noi normalizzeremmo sia il costo del gas che quello dell'elettricità. E allora a questo punto noi diamo meno soldi a Putin, che quindi ne ha meno da spendere per la sua guerra, in attesa di estromettere Putin dal mercato del gas europeo e andare altrove. Dove è andato a cercare il gas? Allora noi adesso stiamo cercando il gas in diversi posti del mondo ovviamente. Più diversifichiamo più siamo sicuri. Ci sono zone tradizionalmente del Nord Africa che già ci vendono gas, noi abbiamo 5 gasdotti, molti sono serviti dal sud del mondo verso il nord, si può differenziare lì. Poi c'è il gas naturale liquido che può essere preso da diversi posti del mondo, Stati Uniti, Canada. Quindi differenziando almeno uno è sicuro di non dipendere così pesantemente. Ma gli americani ci vendono il gas a un caro prezzo in questo momento? Quello liquido che arriva nelle metaniere? Guardi, gli americani vendono a prezzi che ovviamente dipendono da quanto è uniforme l'acquirente. Di nuovo, se si prospettasse un'Europa che acquista gas rispetto a un paese sarebbe diverso. Faccio presente che in questo momento c'è un altro elemento fondamentale nel pianeta gas mondiale. La Cina, come sapete, deve decarbonizzare esattamente come decarbonizziamo noi per gli impegni climatici. Siccome la Cina va prevalentemente a carbone, la prima cosa che si fa è passare da produzione di elettricità a carbone a produzione di elettricità a gas. Perché questo decarbonizza subito. Quindi la Cina in questo momento, che non ha molti gasdotti e prende un po' di gas dalla Russia, sta facendo una massiccia operazione di acquisto di gas liquido, lo trasforma in gas e con questo sta decarbonizzando. Quindi il mercato cinese oggi prende in totale meno gas dell'Europa, ma fra dieci anni rischia di raddoppiare il gas che prende l'Europa. Quindi noi abbiamo tempi abbastanza brevi per fare queste operazioni, sapendo che comunque nei prossimi dieci anni il gas comunque un po' andrà giù per via della decarbonizzazione totale. Per cui è una cosa che dobbiamo risolvere adesso, in questo momento. E entro quanto tempo potremo essere totalmente indipendenti dalla Russia? Allora, i numeri in questo momento sono di questo tipo. Le contrattazioni che il governo sta facendo, anche con le oil in gas che ci stanno aiutando, ci portano ad avere una previsione di circa 15-16 miliardi di metri cubi nei prossimi mesi, a fronte di 28-29 che sono quelli che vengono dalla Russia, che comunque continuano a venire, non è che non vengano. Quindi vuol dire già che nei prossimi mesi noi dovremo avere con le misure che stiamo facendo all'incirca oltre alla metà di quello che prendiamo dalla Russia che può venire da altri fornitori. Poi c'è un piano nei prossimi due anni, due anni e mezzo, in cui possiamo crescere fino ad arrivare ad una cifra dell'ordine di 30 miliardi. Quindi 30 mesi potremmo essere liberi dalla Russia, rischiamo di passare il prossimo inverno al freddo? Allora, intanto non è necessariamente il caso di dire che ci liberiamo dalla Russia, cioè si ristabiliscono i flussi, potremmo ridurre rispetto alla Russia e andare da qualche altra parte per compensare. È ovvio che c'è una guerra in questo momento, quindi può cambiare tutto in poche ore. Perché Enrico Letta, segretario del PD, ha detto che bisogna pensare a rinunciare al gas e al petrolio russo. Però lei, c'è stato il primo ministro, il cancelliere Scholz, che ha detto che sarebbe una tragedia sociale oggi non avere il gas russo. Stessa cosa per noi? Allora, è evidente che un'interruzione istantanea del 40% della fornitura del gas è un'interruzione che fa male, no? Perché il comparto energetico, le famiglie, le industrie non possono assorbire questo colpo in un giorno. Ora, a me da una fiducia il fatto che abbiamo circa il 50% di questa quantità nei prossimi mesi sarà reso disponibile, quindi si riesce a mitigare. Il problema è quello che diceva lei prima, siamo a fine inverno, andiamo verso la stagione calda, ci sarà meno necessità di gas e questa parte dell'anno la facciamo. Ma noi dobbiamo presentarci all'inizio dell'inverno con gli stoccaggi, cioè dobbiamo mettere a riserva, come si fa ogni anno, una grande quantità di gas. All'attuale prezzo del gas, riempire gli stoccaggi richiede un'enorme quantità di denaro che viene anticipata, no? Quindi ci sono dei problemi di natura economica, non solo di natura energetica. Gli americani godono in tutto questo, mi scusi, dal punto di vista del gas, perché loro sono autonomi, hanno il gas, lo shale gas, hanno questo gas che possono mettere in forma liquida e venderlo a tutto il resto del mondo e anche a noi. Diciamo, economicamente per loro non è una brutta situazione questa. No, diciamo che, allora, oggi ho fatto il G7, c'era anche il mercoledetto americano, americana. Per carità, sono preoccupati come tutti, perché una guerra di questo tipo veramente non se l'aspettava nessuno alle porte dell'Europa nel XXI secolo. Detto questo, dal punto di vista energetico loro hanno altri costumi, altra indipendenza. Non hanno il rischio economico che abbiamo noi in questo momento. Certamente, certamente non in questo modo e probabilmente con la vendita dell'LNG, cioè del gas naturale liquido, diciamo, loro possono diventare dei fornitori molto più grandi di come siano adesso. Poi ci sono le persone normali, ci sono i camionisti che bloccheranno tutto lunedì prossimo. Guardiamo un attimo, Chiara Proietti, cosa ci racconta. Ma che fa, il pieno? Dobbiamo riempire questo e l'altro. Quanti litri sono? 14,50. Quanto stiamo? A 700, quasi 50 euro. Io ho la mia macchinetta del caffè, perché in autostrada un caffè costa 1,30 euro, una ciauda costa 20 centesimi. Cioè pure su quello risparmi? Come faccio? 1917. 1917 euro per il pieno, 700 euro in più di un anno fa, soldi che Paolo ora non ha e pagherà a fine mese. Questa è una minicambiale, rifornimento, prelevato e non pagato. Quanto ti porti a casa adesso? Se paghi tutto riesci, che ti devo dire? 800, 700. 600 euro per te. A 51 anni, questo devo fare? Che mestiere devo fare? Io ho fatto sempre, solo ed esclusivamente questo. Ministro, cosa può dire a questo e a tanti altri come lui? A parte che condivido preoccupazione e dolore, il paradosso è che quattro settimane fa, tre settimane fa parlavamo della crescita del prezzo dell'energia dei carburanti ed era un problema di mercato. Adesso con la guerra, a parte l'orrore della guerra, si parla della possibilità che non ci sia carburante. È un livello che non ci aspettavamo di affrontare. Ora siamo concentrati a garantire che non ci possa essere un'emergenza e a garantire quindi che comunque riusciremo ad avere le scorte necessarie e il gas necessario per andare avanti. Ma il problema del prezzo, del costo, che tartassa a questo signore che abbiamo visto e tutti i cittadini, le bollette, le industrie, è un problema che noi adesso non siamo in grado di risolvere. A meno che non si comincia a pensare, come dicevo poc'anzi, ad un'Europa unita anche nel costo globale della sua energia. Cioè il solito tetto, perché il gas si ripercuote poi naturalmente sul prezzo. Perché tagliare le accise, abbassare le tasse sul carburante è una cosa che chiedono loro poi, no? Certo. Che metà del costo del carburante sono accise. Allora sicuramente questa è una cosa che si può fare e ha delle implicazioni fiscali importanti. Però ricordiamoci che dietro questi costi ci sono delle valutazioni di mercato del prezzo per unità di energia o per litro che comunque sono lontani dal reale prezzo di estrazione, per esempio, del gas. Allora io dico prima ancora di toccare le accise, perlomeno benissimo se si deciderebbe toccare le accise si toccheranno. Però come spiego che la mia elettricità in bolletta e che il mio riscaldamento al gas costa così tanto? Perché da quando è iniziata la guerra il gas è quadruplicato, però è sempre la stessa fornitura. Non è diminuita di... Fermiamo la speculazione sul gas e cerchiamo di capire chi sta speculando sul gas. Grazie Ministro Cingolani per essere stato con noi. Grazie a voi. Vediamo prestissimo qui a seguire sempre la crisi energetica. Arrivederci. Grazie.